e la salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video oggi vi spiegherò come creare un effetto tipografico pop art ebbene sì due effetti in uno solo in maniera molto veloce quindi poco tempo effetto risultato garantito ma vediamo come realizzarlo ci apriremo ovviamente una foto adesso mi apro questa tra lo schermo bene cosa andremo a fare andremo su filtro galleria filtri ci andremo ad adattare la nostra foto e cercheremo di avere come vedete andremo a cliccare su timbro e cercheremo di bilanciare i neri con i bianchi quindi io l'ho fatto prima ho trovato un 24 e 1 dipenderà molto dalla vostra foto come vedete se aumento si scurisce se diminuisco si schiarisce questo va a vostro piacere diciamo che io prima mi ero trovato abbastanza bene con un 24 ma anche comunque comunque un 22 non va male sfumatura mi raccomando deve essere a 1 perché altrimenti verrebbe troppo marcata e clicchiamo su ok ci troveremo con questo risultato ora andremo a cliccare due volte sul nostro livello per sbloccarlo cliccheremo su ok e cambieremo il metodo di fusione in schiarisci bene una volta fatto questo andremo a crearci un nuovo livello cliccando qui sull'icona ce la porteremo al di sotto della nostra immagine andremo a prenderci una sfumatura a nostro piacere il colore che vogliamo io ho scelto questa perché che avrete anche voi già per creare l'effetto pop art oltre che tipo grafico che dopo andremo a vedere e clicco su ok prenderò quindi da un angolo all'altro e farò questa sfumatura ora andrò a cliccare due volte sul mio livello e si aprirà così la finestra di stile livello andremo a dargli una sovrapposizione pattern e si creerà questo effetto andremo su un metodo di fusione lo cambieremo e metteremo sovrapponi così da vedere l'effetto che abbiamo sotto andremo a cliccare qui e qui a cercarci praticamente il nostro effetto questo qua se non sbaglio dovrebbe essere anzi è il pattern tela per pennelli per artisti quindi voi vedete qui e vi troverete questi cliccherete sul penultimo e risulterà fuori questo benissimo clicco su ok se devo variare con l'opacità in base a vostro piacere guardateci voi e clicco su ok e voilà il gioco è fatto non ci rimane che magari metterci una nostra scritta ed ecco qua questo sarà l'effetto finale spero che il tutorial vi sia piaciuto come vedete è molto veloce l'effetto è molto carino quindi se vi è piaciuto mi raccomando cliccate su mi piace condividete e noi ci vediamo alla prossima ciao grazie 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 grazie